qua abbiamo qua un bel parco mezzi scegliamone uno per noi tanta roba lì cacchio unimo subito il marchigegno lì figaro vai nel deserto come è successo chi ha la fionda chi è in tasca la fionda va che ti vedo eh ti vedo lo stesso la fionda va che ti sta prendendo tiro giù il casco almeno il casco si va lì qua lì va bene il mio problema e io stavo guardando questo qua che un bel questo è tanta roba e non lo so vai due volte la moto questo è più terminato grazie a tutti grazie a tutti